Dal momento in cui ci è stata affidata la relazione di questo parere, noi abbiamo ottenuto uno dei risultati importanti che il parere si prefiggeva, ed era quello di concentrare l'attenzione dell'Unione Europea e dei suoi organismi sul tema della cultura e dei beni culturali. La prima esposizione del programma della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, non aveva previsto la cultura e i beni culturali tra le priorità della Commissione. Anche a seguito del dibattito che il nostro parere ha suscitato e dei consensi che ha registrato, abbiamo visto che c'è stata una modifica di rotta. Oggi i beni culturali della cultura sono considerati una priorità giustamente nel programma della Commissione europea. E abbiamo registrato anche che la Presidente della Commissione ha affidato un incarico in una delega a una commissaria esattamente sul tema della cultura e dei beni culturali. Che cosa ci previgiamo con questo parere? Il principale obiettivo è quello di non considerare i beni culturali soltanto dal punto di vista della loro conservazione, del loro restauro. Il nostro progetto di parere chiede attenzione all'Europa nei confronti dei beni culturali, anche sotto il profilo del loro utilizzo, della capacità di creare turismo culturale, in particolare tra i giovani, e di favorire la cultura come un elemento di integrazione e di creazione di una cultura europea vera e propria. Noi abbiamo il dovere di fare questo. Pensate che oltre 400, su un totale di 1.120 siti dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO ricadono nei nostri Paesi. Da Malta alla Finlandia, dal Portogallo a Cipro, ciascuno dei nostri Paesi esprime una grande tradizione culturale. Ma non dobbiamo vivere solo di passato, dobbiamo fare in modo che i beni culturali e la cultura possano essere un fattore di sviluppo, anche economico, di conoscenza, di accesso, di cittadinanza europea. Dobbiamo fare in modo di poter incrementare significativamente gli investimenti nella cultura e di favorire anche le opportunità digitali. Il senso del nostro Paese, del nostro parere, è esattamente questo. E con questo spirito lo sottoponiamo all'attenzione del Comitato delle Regioni per fare in modo anche, e questo è un elemento importante, che esso sia portato avanti in modo unitario e in modo convincente. Questo parere nasce da un'iniziativa italiana nella città di Agrigento che quest'anno festeggia 2.600 anni dalla sua fondazione. 2.600 anni. Ed è stato votato e sostenuto da tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro politica e da tutte le regioni italiane. Ed è, credo, un sentimento comune sottoporlo all'attenzione di una grande continente come quella europea. Grazie Presidente.